Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su un video un po' particolare, siamo su un server in compagnia di Bisunto, saluta? Ciao a tutti ragazzi! Allora vi racconto un po' la nostra storia, tra virgolette poi storia, nel senso avevo, come ben ricorderete, parlato di un progetto di creare un magazzino totalmente automatico e ben diviso, diviso proprio decisamente bene E qualche giorno dopo mi contatta lui sulla pagina Facebook, ci eravamo già sentiti diverse volte per vari altri progetti e mi posta queste foto del magazzino già fatto completo, dice guarda è pronto, è il lavoro in mano e non so quanto tempo ci hai passato sopra No, ho un paio di ore, l'avevo già iniziato per me Ah ecco, e detto questo poi ci siamo messi d'accordo per fare un video su un server, ha messo la mappa sul server ed eccoci qua Vi faccio vedere dietro il meccanismo, poi magari illustracelo tu, dato che sei tu il creatore Allora, semplicemente partiamo da qua, se non ti scoccia Qua dentro ho creato un piccolo sistema elevatore per la 1.9, infatti quello con le fence non funziona più, quindi aggiorna il tuo mondo E qua dentro, finendo nell'acqua, come possiamo vedere qua, viene portato qua dalle enderchest Le enderchest e le torte hanno la proprietà di allineare a metà dei due blocchi gli items, quindi in questo caso passeranno a metà fra le tramogge che sono qua dietro nascoste e l'acqua con il ghiaccio Quindi scorreranno in avanti fino a quando una tramoggia li potrà raccogliere Qua dietro c'è un sistema di checking con tre pezzi di redstone invece che i soliti due Questo è dato perché se ci fossero stati più di 5 stack nella tramoggia automaticamente sarebbe andato in crash tutto il sistema Quindi mi raccomando se fate questi piccoli sistemi di smistamento che, ok io qua ho distrutto mezzo sistema grazie all'acqua E comunque andranno avanti fino a quando c'è una tramoggia che li potrà prendere Quelli non staccabili ci sarebbe anche un metodo per differenziarli, comunque vanno tutti in una cesta che ho messo qua sotto dall'altra parte E comunque ci sarebbe il sistema di smistamento delle armature con degli zombie o degli scheletri senza nulla in mano E automaticamente comunque è una storia lunga e riusciranno a smistare anche quello Perfetto, la spiegazione è davvero fantastica Comunque penso faremo diversi progetti insieme, davvero bravo l'ho detto prima a lui in privato, lo dico davanti a tutti È davvero un fenomeno con la redstone, bravo 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 bravo, molto bene Allora detto questo poi mi hai fatto anche questi fantastici armor stand carini, meravigliosi con la mia immagine sopra C'è anche il cartello che ho scritto free gaming, tutta un'altra storia Comunque detto questo probabilmente ci trasferiremo su un server, questo ho stato con Amaki quindi sì è stato da lui Non ho tanta RAM, ho solo 4G Vabbè non è per ora un problema dato che siamo in due Poi se magari dovremo completare il progetto provvederò io magari a prendere un server con un po' più di RAM Detto questo poi andremo a creare tutte farm con sistemi di collegamento Beh nel senso non è difficile farmare questi diversi oggetti, è abbastanza semplice Ah vedo qui le lane però c'è soltanto la cesta per la lana bianca Esatto perché sarebbe l'unica farmabile tra virgolette uccidendo le pecore Esiste un mob spawner di mob buoni e quello è veramente OP però richiede molti materiali Vabbè poi vedremo nel caso ovviamente sarà da fare questo progetto in creative Non ho intenzione di farlo in survival sarebbe davvero troppo dispendioso Non so quanti hopper ha usato ma a occhi e croce davvero servirebbe una bella farm di ferro Una bella Iron Titan e risolvi tutto Ma anche due Anche un paio, sì forse un paio sarebbe più comodo Detto questo poi come farmiamo gli altri oggetti? Beh il legno ok si farma con Ghast e Wither la terra non penso sia La terra come la farmi? Non la farmi la terra? È possibile con la gravel quindi è presente la Croast Deer quella che c'è nella mesa per capirci Sì Però bisogna craftarla te con due pezzi di gravel, due pezzi di terra ottieni quattro pezzi di terra Ok È farmabile È farmabile tra virgolette la terra Poi c'è beh beh che di orite e tutti i vari tipi di terra di rocce insomma Qui c'è tutta la parte redstone Eccoci di nuovo qua sono rientrato nel server In tutti i casi dicevamo sì che è possibile farmare tutte queste belle cose C'è la parte redstone Fino a qua le rotaglie Le rotaglie erano farmabili fino a poco tempo fa Adesso non sono più aggiornato su una farm di rotaglie che funzioni con la 1.9 Non so neanche se esiste Non ho più palire adesso Detto questo poi farm di carbone no Ciorcio al sì Perché Sì carbone anche Carbone perché come lo rientro Il weeder Ah il weeder vabbè Sì il weeder In modo Cioè ti puoi creare tantissimi materiali Vabbè ok Per da scambiare con i villager Sì con i villager sicuramente Vabbè con i villager le puoi fare tranquillamente Farm di pesca sì Rottenflash Questa roba la puoi farmare tutto Ovviamente che sono drop come dicevo prima Li farmi Name tag li farmi Perché cazzo c'è un modo per farmare le name tag Cactus e roba binder Per ovviamente Gastiar E tutto il resto Questo è tutto totalmente farmabile Quindi diversi oggetti Sono tranquillamente farmabili L'utilità di questo magazzino In survival Potrebbe essere anche un'idea Magari finisci di creare un progetto Comunque hai l'inventario pieno Vai in un punto Ti svuoti tutto l'inventario E poi va a posto da solo Il che non è male È un risparmio di tempo In questo cestino Abbiamo qua un cestino fatto apposta Quello che Con l'elevatore È fatto apposta È questo qua Anche da qua Sì sì Esatto Ci puoi buttare quello che vuoi Dopo vediamo se va L'hai messo a posto il coso? Esatto Adesso prendiamo un po' di roba Così a casa Aspettate Aspettate Manca qualcosa Per esempio Non possono essere messi dentro Blocchi d'oro Blocchi di diamanti E roba varia Magari da migliorare Anche da questo punto di vista Sì Ovviamente qua non avevo Lo spazio disponibile Nei quattro cianchi Caricati sempre Quindi sì va bene Poi basta trasferire il mondo E allungare il tutto Ho droppato un pezzo di gravel E prendiamo magari legno È molto gravel È molto gravel Soprattutto Blocchi di redstone Repeater Ci prendiamo Rottenflash La carne di pollo Sì c'è Quella cotta Quella di coniglio Non la vedo Vabbè Fattessi che adesso proviamo Questa roba qua Control Q Control Q Control Q Adesso tiriamo fuori tutto Sì con Control Q Si troppa tutto Sentiamo qualche rumore dietro Infatti vediamo che l'elevatore funziona Se vuoi andare a vedere Mentre funziona Io butto dentro oggetto Ah eccolo qua Sta salendo Sì vai Buttalo Butt dentro qualche oggetto Che almeno vediamo se Ce lo faccio vedere anche in camera Sì ando redstone Perfetto Attualmente no Io sto continuando a buttare No non vedo Non si vede No assolutamente nulla Magari non si vede a redstone Cosa? Cosa potrei buttare? Eh provo un blocco Qualsiasi blocco Anche cobblestone Esatto Si vede passare qualcosa? Zero Completamente zero Io non Ah è perché mi ha tirato fuori dal server Ok Adesso riproviamo Mi ha buttato fuori dal server Apposta non vedevamo nulla Dai proviamo Una Diretta live Un po' di tutto Un po' di tutto Prova qualcosa Sì eccolo qua Infatti sta salendo Sì sì Non intasate troppo con gli stessi stack Ovviamente non c'è una farm Che produce 200 stack Di canne da zucchero al secondo Quindi è testato Fino a certo punto Adesso si vedete No qui sta passando Dei materiali Li sto seguendo io Col mio personaggio E poi Appena arrivano Abbiamo messo a posta alcuni Alcuni non sono Possibili Ah sì sì Infatti ho visto che sono arrivati Alla fine nell'altra cesta Andiamo a controllare adesso Se effettivamente Lo smistamento funziona Ah mi è ritirato qua Mi sta laghicchiando un po' Andiamo a controllare Mi mischiato Ho buttato un po' troppi stack Di redstone Se sono intasati gli occhi Ah ok Mi riprendo Il blocchi di redstone C'è un Repeater Un comparator Scusa Nella parte dei blocchi di redstone Colpa di l'acqua Scusa Ah ok Sì l'acqua di prima Vedete il repeater Funziona Andiamo a vedere se c'è Il legno di Akasha Che avevo buttato dentro io Sì Akasha Perfetto Che lo sta continuando a tirare Perché qua ci sono 23 Oh aspettate L'ho buttato leggermente un po' anch'io Ce ne sono soltanto 23 pezzi però Eh li ho buttati io Le planks Ah ok non so Allora le mie non le ha prese probabilmente Non lo so Vediamo se c'è della gravel La gravel dove sta? Dove sta? Poi bisogna anche ricordarsi Vi sono dimenticato di dire una cosa Negli hopper vanno dentro 41 blocchi del materiale che volete Quindi se vuoi venire qua Vuoi guardare in un hopper Io ho messo la barriera Potete mettere qualsiasi blocco Sì solitamente vengono usati i carrelli I no scusa I cose i cartelli Sì no mi è venuto carrelli invece Sono cartelli Sì nel sistema di smissamento Sì io li metto i bottoni invece Perché non sono craftabili Non sono farmabili Ed è molto difficile che finiscano nel sistema Eh sì sì Magari sì Sono varie tecniche Infatti vedo i cartelli Qua c'è una cesta di cartelli appunto Non li hai usati Va bene Questo è quanto Comunque il sistema è davvero fantastico Mi piace un sacco da Sta arrivando ancora redstone Sta arrivando redstone Ah ok buono C'è una quantità di redstone Comunque va soltanto rivisto per una piccola parte Ma per il resto è completo Va soltanto Vanno finiti di mettere alcuni blocchi Ah sì davvero C'è una quantità di redstone È allucinante Comunque davvero davvero buono Vi lascio in descrizione il canale di Bisunto Se volete andate a fare un salto sul suo canale Fa video anche lui di Minecraft Poi Adesso ho iniziato Minecraft moddato Ho visto che mi è passato la passione Ah io te l'ho passato Sì Che pacchetto stai facendo? Sto facendo un pacchetto creato da me Soprattutto tecnico comunque Ah buono buono Avevo creato una serie vanilla quasi Con i command block Però dopo laggava troppo Avevo messo tipo 200 one command Quindi potete immaginare Anche questa di idea hai preso da me Oppure te era venuta da solo Perché anch'io non so se No l'ho creata io Ah ok Prima di te Prima? Perché a me era venuta Eh sì con one command Poi io li ho portati un po' dopo I one command Nel senso che ho fatto un paio di video Sul Witherstorm Che mi era piaciuta L'idea di quel mob allucinante Anche quello mi è piaciuto Sì 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 bella Interessante Poi l'ho provata Quella one command E funziona anche abbastanza bene È carina come Command block Se non l'hai provato Provalo In tutti i casi L'ho provato Ah l'hai provato Bene ottimo Sì Comunque detto questo Passate sul suo canale E penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione vi ricordo lasciarmi il mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale Al mio E al Quello di Bisunto Se volete Continuare a seguirci Non so perché ho cambiato Outro Però mi è venuta così E noi siamo come al solito A prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi